Intanto un saluto a tutti voi, oggi parleremo di un nuovo argomento sul canale, un argomento che non avevo mai trattato però di cui sono molto appassionato da circa tre anni, ovvero le criptovalute. In realtà sono interessato e opero non solo nel mercato delle criptovalute ma anche nel mercato azionario, ma oggi voglio assolutamente parlare di un problema che mi attanaglia e che sicuramente attaglierà molti di voi, quindi in primis vi esplicherò qual è il problema e quali sono le modalità di questo problema, come si è creato questo problema e poi soprattutto mi farebbe tantissimo piacere anche se voi come me avete lo stesso problema e soprattutto se siete riusciti a superarlo. Il problema come avrete letto dal titolo e come avrete sentito dalla mia prima frase d'apertura del video è quello che non riesco a vendere il bitcoin, ma come si è creato questo problema e qual è la situazione di base? Io questo video lo sto registrando che oggi è giorno 10 dicembre, in un periodo in cui da ricco un mesetto bitcoin si è svegliato dopo un periodo, un bear market abbastanza lungo per i suoi standard, circa due annetti che il prezzo di bitcoin e di tutte le altre criptovalute è crollato causando perdite nei portafogli di tutti gli utenti, compreso il mio. Io sono entrato in questo mondo nel febbraio 2021, la mia prima criptovaluta l'ho comprata il 9 febbraio 2021 ed è stata Stellar Lumen, cioè completamente un'altra criptovaluta, un altcoin diversa da bitcoin perché all'epoca ero quasi del tutto ignorante, mi reputo ancora in parte ignorante perché in questo mondo non si finisce mai di imparare, però all'epoca davvero acquistai Stellar Lumen così perché mi piaceva il simbolo del razzo, pensate un po'. Poi Stellar si è in primis rivelata nella bull run del 2021, comunque ha performato bene, poi come tutte le altre altcoin è andata giù parecchio, anche se comunque diciamo ha avuto un certo grado di resilienza. Però qui non stiamo parlando di altcoin, non stiamo parlando di Stellar Lumen, ma stiamo parlando di bitcoin perché durante quella bull run del 2021 ho acquistato bitcoin. Il mio prezzo di ingresso è stato il primo ingresso a 42.000 euro, quando era a 42.000 euro ho acquistato una piccola, parto una piccola cifra, parliamo comunque di un investimento per lo più iniquo all'epoca, ma continuai ad acquistare bitcoin non solo durante la bull run ma soprattutto durante il beer market. Ho fatto in totale ingressi dai 42.000 che vi ho detto poco fa in giù fino al picco minimo che fu nel mio caso 16.000, anche se poi bitcoin se non sbaglio è arrivato fino a 15.000 euro, quindi quasi vicino al bottom. In tutto ho investito una cifra inigua che posso tranquillamente dirvi, circa 1.000 euro, solo in bitcoin, attenzione, perché poi nelle altre altcoin ho investito altre cifre, in totale ho investito 4.000 euro, quindi con un'esposizione elevata sulle altcoin, perché all'epoca giustamente nell'ignoranza mi facevo un po' trascinare da quell'hype delle altcoin che performavano molto di più di bitcoin. Ovviamente una cosa che performa tanto durante le bull run andrà a finire che peggiorerà, performerà molto peggio durante un beer market. Infatti le perdite sulle altcoin sono state elevate, anche se in questo momento, come vi ho detto in apertura del video, tutto è in verde. Io sono arrivato a guadagnare, in alcuni casi anche sulle altcoin, ma questo ne parleremo in un altro video, soprattutto con Solana ed Atom, ma anche e soprattutto con bitcoin, perché avendo acquistato, non ho fatto un vero e proprio pack, diciamo che avevo una cifra fissa, 50-100 euro, che mettevo ogni volta che secondo me arrivavamo ad un prezzo in cui io in quel momento dicevo, sì, a questo prezzo voglio acquistare. Mettevo un ordine di acquisto su Binance ed acquistavo. In tutto ho investito 1.000 euro dai 42.000 in giù, fino vicino al bottom, quindi fino ai 16.000. Entrate a 30.000, 32.000, 26.000 e via di 100.000. Poi ve le farò vedere se volete, ho tutto sia nel foglio Excel, ma soprattutto nel quadernetto, perché io ho ancora vecchio stile, un po' segniamo tutto a penna. Quindi, ma il problema adesso, che sono in guadagno con bitcoin, il problema è stato ed è il non riuscire a vendere. Molte volte si vende quando il prezzo scende per la paura, per la food, e via dicendo, io non ho accusato questo malestre, questo problema di vendere, di aver paura di perdere, perché ho investito una piccola cifra, una cifra che io già nel momento in cui l'ho investita pensavo di averla persa, quindi ho seguito la massima di investire solo quello che riesci a perdere, che sei in grado di perdere, che molti non la condividono, però io ho seguito questo consiglio all'epoca e diciamo mi sono trovato bene, non ho mai avuto quell'ansia di dire, eh ma adesso perdo tutto, perché comunque erano 1.000 euro, in fin dei conti io potevo permettermi di perdere quei 1.000 euro. Adesso sono però in guadagno e diciamo, sempre in base alla piccola cifra che ho messo su bitcoin, è un guadagno rilevante. Ho fatto quasi il 2x, se non sbaglio sono già al 2x, perché poi ho inserito quei bitcoin li ho passati nella pennetta, nel ledger, insieme ad Ethereum, quindi poi il totale me lo dà tra bitcoin e Ethereum, però ho fatto solo su bitcoin quasi il 2x. Quindi il problema è questo, di non riuscire a vendere quando il prezzo sale e non è un problema di cui appunto solo io ne soffro assolutamente. Molte persone purtroppo nel periodo di FOMO, anche avendo come me acquistato a prezzi agevoli, a prezzi concorrenziali, usiamo questa terminologia, e quindi si ritrovano con un guadagno, in molti casi anche molto superiore al mio, non riescono a vendere perché dicono, ma se sale ancora? E se ancora siamo solo all'inizio della bullrun, in realtà nessuno sa se questa è una vera bullrun, se davvero il prezzo di bitcoin supererà i massimi dell'epoca, del 2021, perché se non sbaglio il massimo l'ha toccato circa ottobre-novembre 2021, se non vado errato. Quindi non è detto, nessuno nei mercati nessuno sa, si possono fare analisi tecniche, analisi fondamentali, ma ripeto, qui siamo in un comparto prettamente speculativo, e la mia paura, come la paura di tanti di non voler vendere, è quella prettamente relegata all'avidità, perché quello è il problema, cioè potenzialmente avere un guadagno ancora maggiore di quello che già si ha. Anche se in questo caso la soluzione, qual è la soluzione al problema di non riuscire a vendere un asset quando in forte guadagno? La soluzione, quella che molti guru del settore propinano, è quello di cominciare a vendere quell'asset a scaglioni, in modo che non si chiuda completamente la posizione e quindi si possa continuare a guadagnare se il prezzo sale, impostando dei limit buy a scaglioni, tipo che so, della propria quota, mettiamo un limit buy a 45.000, quindi del 25% della quota totale, quindi 25% vendita quando arriverà a 45.000, un altro 25% quando arriverà per esempio 50.000, 55.000 e via dicendo. Così facendo, un minimo di guadagno si comincia ad avere, perché si comincia a fare il take profit, perché è giusto fare take profit quando un asset in poco tempo aumenta tanto, è una cosa corretta, e soprattutto non si ci brucia la posizione, perché continuando a salire, si attueranno sempre dei take profit, senza andare a bruciarsi completamente in un dato prezzo, che poi magari continua a salire e uno rimane, eh ma se fossi resistito, se avessi resistito di questa cosa, mi sarei trovato con un guadagno maggiore, e così via, e poi si cominciano a creare delle turbe psicologiche che potrebbero portarti a acquistare nuovamente l'asset, quando già siamo in iperestensione a livello di prezzo, e poi restarci fregato, perché magari si compra, cioè tu hai venduto tutto a 45.000, continua a salire, acquisti a 47.000, e poi l'indomani cade tutto, magari non era una bull run ed era una bull trap, che ne so, e poi ce l'hai fregato, hai comprato al top e ti resta il prezzo al top, quindi sono dinamiche particolari, io ancora nonostante so come vi ho detto, vi ho esplicato, le modalità con cui uno potrebbe pronunciarsi nella vendita di un asset in forte guadagno, nonostante ciò non sono ancora riuscito a impostare i limit buy, o meglio, o i take profit, come vengono comunemente denominati. Vediamo, magari mi convincerò più avanti, io vi terrò aggiornati su ciò, e raccontatemi se anche voi avete il mio stesso problema, e se siete riusciti a superarlo, e quindi ad attuare la pratica che vi ho detto prima, o se avete altre pratiche, perché no? è giusto anche condividere ed aiutarsi in questa community, io non sono un guru finanziario, ovviamente questi non sono consigli finanziari, anche perché non vi ho dato dei reali consigli, vi ho solo esplicato quello che dicono altre persone, i guru della finanza, e soprattutto ci tengo anche a precisare che investendo anche nel mercato azionario, se volete dei video in cui io vi dirò, vi dirò, vi dico, appunto quello in cui ho investito nei dettagli, quindi in tutti gli asset, sia nel mercato azionario, sia nel mercato delle criptovalute, perché come vi ho detto ho un investimento di circa 4.000 euro solo nel mercato delle criptovalute, io tranquillamente vi potrò fare un video, quindi ditemi voi. Per adesso è tutto, il video termina qui, ci vedremo sicuramente in un altro video, quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona serata, se state guardando il video di sera, ciao ciao!